La Salernitana Genna dovrà ingaggiare anche un portiere. Ieri è giunto il responso degli esami strumentali a cui si è sottoposto Gigi Sepe. Il portiere ha riportato una lesione muscolare al polpaccio destro, lo stesso che gli aveva dato problemi alla vigilia della gara con l'Udinese dello scorso maggio, costringendolo a restare in tribuna nella sera più importante. Sepe sarà fermo diverse settimane e la Salernitana vuole chiudere la porta con un altro estremo difensore, anche perché Mikai, da tempo fuori dai piani, è sempre più vicino al Cosenza e Fiorillo resterebbe di fatto l'unico estremo difensore a disposizione. Il DS De Santi si ha messo nel mino Erit Beriscia, esperto portiere albanese che al Toro non ha trovato molto spazio in questa stagione e che ha un contratto fino al 2024 con il club di Cairo. Assistito da Pastorello, l'ex Lazio potrebbe spostarsi anche in prestito fino a giugno. Sul taccuino anche Ionit Radu, chiuso alla cremoese da Carnesecchia e destinato a far ritorno all'Inter, il suo agente Oscar Damiani stava cercando una squadra in Francia, ma ora valuta anche la pista salernitana. Altro portiere nei radar Granata è Pierluigi Gollini, in uscita dalla Fiorentina e solo di passaggio all'Atalanta, visto il suo scarso feeling con Gasperini. Tra gli svincolati c'è Federico Marchetti che ha lavorato con Nicola Algenoa. Per la corsia destra è virtualmente chiusa l'operazione ritorno per Zortea, in mediana invece c'è ancora distanza col Napoli per Diego Demme. Formula identitaria d'ingaggio richiedono altri incontri. In attacco potrebbe partire Valencia, richiesto dal gremio. A quel punto ci sarebbe il via libera per il ritorno di Milan Diuric. Il Monza resta vigile su Bonazzoli. Grazie. Grazie.